non ho mai creduto perché credi nel progetto spiritico di cui parla la guida psichica del cerchio medianico k commento perché non ho mai creduto che la legge di evoluzione si possa esprimere attraverso una sola medianità ma attraverso diverse medianità di diversa evoluzione che possano essere utili a persone che hanno quel bisogno evolutivo